Io faccio una domanda al Presidente della Regione, o fa il Presidente della Regione o fa l'ex Sindaco di Pesaro. Al Sindaco Seri non è piaciuta l'affermazione del Presidente della Regione, Luca Ceriscioli, che ieri ha confermato l'esclusione di Chiaruccia dai luoghi proposti per realizzare il nuovo ospedale. La scelta, infatti, sarà limitata a due siti, Muraglia e Fosso Segliore. L'ipotesi fanese dunque è stata scartata in modo definitivo, nonostante sia stata sostenuta anche da altri amministratori locali della provincia di Pesaro Urbino. Fino ad oggi non c'è mai stato un tavolo serio dove ci si è seduti e si è ragionato su elementi concreti. Io solo ho sentito slogan, da una parte e dall'altra. Ripeto, sono rimasto molto disturbato e queste cose le mandrò a dire, anche perché se si vuole fare un raggiamento serio bisogna uscire dal perimetro della propria città e fare un raggiamento a più largo respiro. Io in queste condizioni sono disponibile a ragionare, in altri termini no, mi dispiace. Nel corso del programma Primo Cittadino il sindaco ha poi annunciato delle novità come una giunta congiunta fra l'amministrazione di Fano e quella di Senigallia che si riunirà entro la fine del mese per ragionare sulle possibili collaborazioni. Tra queste uno staff di progettazione per realizzare una pista ciclabile che vada a collegare le due città. Fra gli obiettivi c'è anche quello di candidarsi ai prossimi bandi del POR il programma operativo regionale che metterà a disposizione risorse per le infrastrutture dedicate alle due ruote. Ragioneremo anche su peculiarità che a Fano e che a Senigallia che possiamo anche scambiarci sulle buone prassi ma sta nascendo una bella collaborazione fra le due amministrazioni che penso porterà beneficio ad entrambi. Il sindaco ha intervenuto anche sul verde pubblico viste le numerose segnalazioni arrivate durante la trasmissione in diretta. Lo sfalcio prosegue assicurato seri e poi oltre a rendere noto di voler predisporre dai prossimi anni una squadra di pronto intervento del verde per le emergenze nei vari luoghi della città ha lanciato un appello ai fanesi. In questa occasione vorrei anche rivolgere un appello ad essere più sensibili, a voler più bene alla propria città molte volte con un piccolo gesto, con una piccola azione si può fare una buona cosa per tutti. Sul tendone del Lido invece il comune ha preso una decisione, la tenso struttura verrà ripristinata. Purtroppo il maltempo ce l'ha portato via, dopo l'abbiamo tolto noi perché si era talmente rovinato e abbiamo già stanzato le risorse e verrà ripristinato. Il primo cittadino poi oltre a fare un bilancio sui primi anni di governo della città visto che ieri 8 giugno ricorrevano due anni dal giorno delle elezioni comunali è intervenuto sui lavori del rio Crinaccio a Ponte Sasso e rispondendo ad una nostra telespettatrice sui tempi dell'intervento e gli impegni presi Seri ha lanciato una frecciatina al collega di Pesaro Ricci. Mi ero preso degli impegni e sono una persona che quando parla magari preferisco quando non sono sicuro di non dirle rispetto a qualche collega di qualche città vicina che ne racconta più di quelle che fa. I lavori riprenderanno dopo l'estate perché certi lavori non possono essere fatti durante lì ci sono le spiagge, anche lì le risorse sono già state stanziate, la gara d'appalto è già stata fatta. I lavori riprenderanno a fine settembre-dicembre, anche perché vanno eseguiti entro la fine dell'anno e pagati entro la fine dell'anno.